buongiorno a tutte oggi vi farò vedere come fare questi bellissimi segnalibri qua vedete sono una figata li ho visti su fare su un video su facebook e volevo farveli vedere anche voi allora io ho già fatto un po' ho fatto questo così così e così e adesso vi mostrerò come farli allora ci servirà una bustina per lettere le nostre amiche forbici e due washi tapio in questo caso ho scelto questo qua con il sushi e questo piccolino giallo cominciamo e Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah E anche il nostro voci table si, il nostro segnalibro sushi è terminato Ditemi se questo video vi è piaciuto e seguitemi sui vari social facebook, instagram, scrivetemi nelle mail fate quello che volete ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video